Domenica 23 ottobre, ultima giornata del primo festival di valori, abbiamo organizzato un pranzo, incontro dove diversi esponenti del mondo della sostenibilità ma anche dell'alimentazione hanno dialogato per capire cosa c'è dietro il cibo. Da Action Aid, altro mercato, passando da Silvia Moroni, un attivista e green influencer, fino ad arrivare ad Alessandro Volpi, docente ed economista. Abbiamo cercato di capire, indagare cosa c'è dietro il cibo, non solo a livello di lavoro, di filiera, ma anche a livello di speculazione finanziaria. E poi abbiamo cercato di capire cos'è il pesce sostenibile, chiudendo, cercando di dare qualche dritta ai consumatori grazie ad altro mercato, perché ovviamente tutti dobbiamo mangiare e dobbiamo farlo in modo sostenibile.